Quindi, avete ricevuto una segnalazione. Bene! Whistleblower Software è la piattaforma leader per segnalare in modo confidenziale o anonimo illeciti sul posto di lavoro. Il nostro software permette ai tuoi dipendenti di segnalare facilmente in tutta sicurezza sia dal computer che dal cellulare. La parte migliore? La gestione delle segnalazioni in arrivo è davvero semplice. Potrai gestire le segnalazioni, assegnare i casi e continuare la conversazione con il segnalante. Anche quando la segnalazione è anonima. Whistleblower Software è la scelta di fiducia di aziende e studi legali in tutto il mondo. La piattaforma è stata costruita rispettando i più elevati standard di sicurezza. Tutto è in criptografia end-to-end. Neppure noi possiamo vedere le tue segnalazioni. Il nostro software è la soluzione di whistleblowing più apprezzata al mondo. Siamo infatti al primo posto sulla piattaforma di valutazione di software G2, con il più alto livello di soddisfazione tra gli utenti. Whistleblower Software è economico, facile da configurare e presenta funzionalità avanzate, per soddisfare anche le esigenze più complesse. Allora, cosa stai aspettando? Provalo gratis oggi su whistleblowersoftware.com Allora, cosa stai aspettando? Allora. Ciao, ciao.